E' devastante guardare alla luce del giorno quanto accaduto ieri sera a Coperchia dove un movimento franoso ha letteralmente travolto una palazzina dove trovavano alloggio tre famiglie, una colata di fango che ha letteralmente sventrato una palazzina, oggi un cumulo di macerie, ma per fortuna nessuno dei dieci residenti di via Livatino alla frazione Coperchia di Pellezzano è rimasto ferito. Una frana di vaste dimensioni che ha creato terrore. Al momento del cedimento nell'immobile era presente solo una delle tre famiglie, un vero miracolo e quanto ancora pronunciavano tutti questa mattina nel piazzale dove ieri sera si è messa in moto tutta la macchina dei soccorsi, i volontari della protezione civile Santa Maria delle Grazie, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e i carabinieri della stazione di Pellezzano. Un evento del tutto eccezionale che allo stesso tempo fa scattare rabbia perché si apre un nuovo fronte di emergenza nel territorio dopo altri eventi frannosi dei giorni scorsi. A seguire passo passo quanto accadeva ieri sera nella valle dell'Irno il sindaco di Pellezzano Francesco Morra bloccato a casa per il covid intervenuto stamane nel corso di una nostra diretta su facebook. Sul posto questa mattina dove i carabinieri hanno posto sotto sequestro tutta l'area della palazzina anche il vice sindaco Michele Murino che sta seguendo da vicino tutta la situazione. A Coperchia intanto è stata attivata dal club Granata Coperchia una raccolta fondi per solidarietà alle famiglie che hanno perso la casa. Sì, anzi il giorno dopo è ancora più spaventoso a vederla così. Noi da parte dell'amministrazione c'è naturalmente piena disponibilità alle famiglie a 360 gradi come già annunciato il sindaco Morra che purtroppo insomma colpito da covid ha dato insomma la sua piena disponibilità alle famiglie coinvolte in questo tragico incidente. Ora dopo i vari sopralluoghi che sono stati fatti ieri sera sono state fatte le prime ipotesi naturalmente che la frana che ha toccato dietro il palazzo che vediamo non ha nulla a che vedere con la frana di 15 giorni fa dall'altro versante e nulla invece anche per i lavori che erano diciamo di pulizia che erano iniziati sotto ha intaccato praticamente la frana in questione. Ora si faranno naturalmente degli esami specifici su tutto il versante per capire l'andamento e per monitorare meglio questa piccola montagna. Qui c'era già una ditta al lavoro un cantiere già aperto proprio per la messa in sicurezza? Esatto c'era una ditta insomma erano stati appaltati questi lavori a questa ditta di Avellino che aveva vinto il bando e erano iniziati i lavori di pulizia e di manutenzione del del versante che era stato colpito due anni fa. Poi si sono interrotti per le allerte medio che c'erano e la pioggia insistente che è venuta giù in questi giorni. Sono dieci le persone che sono state spollate da questa abitazione. Ieri una famiglia volontariamente già nei giorni scorsi aveva abbandonato l'abitazione perché temeva proprio questa montagna alle spalle perché c'era stato già un piccolo cedimento. Un'altra famiglia invece era ancora al lavoro quindi non erano rientrati. All'ultimo piano invece la signora era in casa. Esatto sì le tre famiglie coinvolte come già tu hai detto una famiglia volontariamente era già si era allontanata. La seconda famiglia del secondo piano invece non era ancora rientrata da Salerno. La terza famiglia che dove la frana in realtà non ha colpito il terzo piano era presente in casa e ha sentito un boato incredibile e si arriva in strada giustamente in strada. Viene lecito guardare questa montagna, guardare questa abitazione, questa struttura, quest'immobile sono davvero molto ravvicinati? Sì è molto ravvicinata la montagna questo immobile. Naturalmente sarà fatta chiarezza dagli organi preposti anche questa situazione. Noi con l'amministrazione andremo avanti con i lavori e cercheremo di ripristinare al più presto in modo sicuro naturalmente sia la montagna che la viabilità perché siamo su una SP, su una provinciale e una strada di collocamento tra tutto il comune in pratica. Ma in contemporanea naturalmente saranno fatti dovuti a certamente sull'abitazione esistente. Ormai è tutta sotto sequestro, sicuramente ci sarà un'indagine legale anche per capire le autorizzazioni urbanistiche, insomma anche per la realizzazione di questo stesso immobile. Frattanto per fortuna oggi non contiamo danni, sono tutti in salvo. Eh sì, ringraziamo il Signore per questo. La certezza è soltanto questa in questo momento. Ringraziamo il Signore perché non ci sono state danni a persone. Gli organi preposto, come ho detto, faranno il loro percorso. Soltanto questo possiamo dire. Spero venga fuori naturalmente le responsabilità di chi sono per questo danno incredibile. Questa è la frana più spaventosa. Abbiamo anche l'altra dei giorni scorsi. La strada resta ancora chiusa? Sì, in questo momento, come dicevo, resta chiusa. Sono iniziati di nuovo, hanno ripreso di nuovi lavori di pulizia oggi proprio perché il tempo ce lo permette e cercheremo di ripristinare prima possibile la strada.